Vacanze finite per oltre 8 milioni di studenti. Molti alunni delle scuole di diverse regioni italiane sono già tornati tra i banchi di scuola e oggi è stata la volta della Liguria. La ministra dell'istruzione, Valeria Fedeli, ha già mandato il suo messaggio a studenti, dirigenti e tutto il personale scolastico per l'inizio del nuovo anno, con un pensiero particolare alle zone del centro Italia colpite dal sisma e a Ischia. Tante le novità per l'anno scolastico che inizia oggi. Con la riforma della buona scuola, ad esempio, il liceo artistico di Via Agnesia Imperia è stato accorpato al liceo Moretti di Piazza dei Negri e il dirigente è unico, Beatrice Pramaggiore. È atteso poi l'arrivo di un nuovo provveditore che dovrà subentrare Franca Rambaldi, scomparsa il mese scorso. All'istituto tecnico Ruffini, dopo l'addio a Giovanni Poggi, è stato nominato preside Paolo Auricchia. Ma si sa che appena comincia la scuola si pensa già alle prossime vacanze. Per le festività natalizie tutti gli istituti o quasi rimarranno chiusi tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, mentre per quelle pasquali l'interruzione delle lezioni è prevista tra il 29 marzo e il 3 aprile. Grazie. Grazie.